Ciao amici, devo comprare il mangiare dei miei gatti, è finito, allora sono venuto a vedere un ristorante, sì, c'è un negozio di animali dove vende cibo per animali, è nuovo, appena aperto, una volta era piccolo, adesso si è spostato, andiamo a vedere cosa c'ha Questo era piccolino una volta, si è spostato, adesso è bello grande, sarà anche più fornito, andiamo a vedere Ah, qua ci sono le gabbiette Questa è la gabbiette per gli uccellini No, le gabbiette per gli uccellini non ce li ho Bello questo per i gatti, la torretta, per loro è un parco giochi Allora c'è questa marca qui che va tanto, Royal Canin, che per i cani Questo, non so, tipo vitamine, proteine per i cani Allora, vediamo, questa marca è anche per i gatti Ci sono vari tipi, urinary, light, questo è light per dimagrire Indoor, questo per i gatti che stanno in casa sempre British short hair Questo, ecco, questo qua è proprio per i persiani Quindi il mio, io, un persiano è uno Scottish Fold Quindi questo potrebbe andar bene Questo cane Comunque c'è, ogni sacchetto è specifico per una razza diversa Bello Poi qua le varie scatolette Questo è sempre per cani, però Ecco qua, scatolette per i gatti Adesso vediamo i gusti A me non si riesce a capire Makanaadloat Questo è tonno Poi ci sono questi, ma non vanno bene Questa marca qua non lo mangia il mio gatto La Whiskas Qua c'è Friskies Questa però, questa è buona, ma questa costa un botto E arriva dagli USA 109 baht Questo pacchettino qua Salmone tonno Salmone tonno Questa cos'è? Healthy kitten formula Questa invece è la più economica, questa marca Però anche la più scadente No, questa no Questa la danno i gatti randaggi I gatti che stanno in casa non va bene Perché poi stanno male Li viene la diarrea Qua ci sono un po' di accessori Qua ci sono un po' di accessori Questi per i cani Le bretelle per portarli agli insaglio Il musaruola Qua ci sono i ciondolini Collari per i gatti Io questo già ce l'ho Ci sono un sacco di tipi Belli con il campanellino Le spazzole Addirittura i semi di girasole Altri semi Ah, dicono che i semi fanno benissimo Questo cos'è? Boh Questo è cibo per gli uccelli ragazzi Addoveratoio Caccattolini Un'altra marca Questo per cani Questo per gatti Allora, prendiamo Questo qua Per lo scottish fold E poi Questo qui Per il persiano Comunque costicchiano questi mangiari Questo 5 kg 4 kg 1250 Questo invece Il pece costa 2 kg 5,99 Più o meno uguale Perché l'altro è 4 kg Questo 2 Sorry Ok Ok Prendiamo anche un po' di sabbia Per la lettiera I miei gatti Saranno contentissimi Del nuovo cibo Del nuovo cibo Adesso quando arrivo a casa Faranno un casino Mia, 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 mia Sono arrivato a casa Fufì, bobbì Ti piace? Ti piace? Ti piace? Le vuoi, le vuoi, le vuoi In gordo Vai Anche i vostri gatti Mangiano come dei leoni Mamma mia Ciao ragazzi Buon sabato Buon weekend Buon weekend Grazie.